Ehi la ragazzi, ciao a tutti e ben tornati qua su Minecraft Allora ragazzi, oggi non costruisco niente perché ho bisogno di tanto oro se voglio continuare Cioè, praticamente, se vi ricordate, nello scorso gameplay ho ampliato la farm di scheletri E vi avevo detto alla fine, ma buttiamo giù insomma una stradina, ci mettiamo un binario Così che insomma in breve tempo riesca a raggiungere la farm, no? Perché comunque andare a piedi è sempre comunque lento Però ragazzi, se voglio creare un altro binario ho naturalmente la necessità di... Ho bisogno dei binari alimentati di questi qua Attualmente ho pochissimi binari alimentati e l'oro che mi è rimasto è tutto qua Non ho altro oro il mio, diciamo, a mia disposizione Quindi, che se fa oggi? Si va nel... Andiamo nel mesa, lì, come ben sapete È possibile trovare tantissimo oro Quindi, che facciamo? Il piccone, bene o male, non sta messo male male Poi, pigliamo un bel piccone con fortuna Metti che trovo qualcos'altro di interessante Quasi quasi mi porto a che frecce? Metti che qualcosa va storto Metti che ho la necessità di difendermi Perfetto, raga Quindi oggi non si costruisce, oggi si esplora Oltretutto ho con me la bussola Quindi mi posso allontanare tantissimo Magari ci spingiamo un po' oltre Andiamo tanto, tanto, tanto in esplorazione nel mesa Magari siamo fortunati e troviamo qualcosa di bello Quindi si parte Naturalmente un giorno o l'altro Tiro un binario che va nel mesa Così evito ogni volta di dover prendere sta barchetta Ok ragazzi, casa nostra è in vista Siamo arrivati Allora, beh, arrivati Veramente da qui si parte Perché adesso si va in esplorazione Da qui si parte Ho con me un letto Quindi non ho problemi, diciamo così A dormire dove capita Perché ovviamente è meglio viaggiare di giorno che di notte Allora, diciamo che adesso iniziamo un pochettino A... Diciamo, ci avviamo così a caso Andiamo un po' per di qua e per di là Cioè, andiamo dove non sono mai andato Dove non sono mai stato Quindi Vado sempre dritto e poi magari ci buttiamo dentro una caverna Perché ancora ci sono luoghi che non ho esplorato Quindi magari troviamo anche delle belle casse Piene di tesori Chiaramente voglio trovare più che altro una caverna Così da esplorarla Ecco, lì ce n'è una Esploriamo, raga, caverne Che magari riusciamo a trovare oro in abbondanza e quant'altro Signore No, ma beccato Ma come c'è che ha fatto Esplodi Aio Oh dai, ce n'è più di uno Vieni, vieni, vieni Vieni, 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 vieni Vieni, vieni, vieni Vieni Esplodi Se hai coraggio Forza Forza Avante veloce Oh Vuoi crepà Allora Mi serve un po' di oro Dai Do sta Di solito qui Eccolo, vedi Eh, questo ragazzi Lo prendiamo col piccone con fortuna Perché comunque Ho bisogno di tanto oro Quindi, beh, speriamo anche che Speriamo che effettivamente il piccone con fortuna Mi dà più oro Oh, vediamo un po' se si Duplica sto coso A me pare proprio che A me pare proprio che non si moltiplica l'oro Mi pare proprio che non si moltiplica Quindi lasciamo perdere il piccone con fortuna Non mi va di consumarlo per nulla Ok, questa caverna, raga Pare che non offre altro Quindi Alziamo i tacchi E andiamo da qualche altra parte Qui perché è così Perché non c'è niente Sta già per arrivare la notte Ma noi abbiamo un letto da utilizzare Oh, qui è pieno di oro Oh, una bella notizia Però prima Piazziamo un letto Schiacciamo un pisolino Così i mostri non romperanno le scatole Durante la notte Ok, il letto me lo devo riportare Perché è importante Magari Piuttosto che Fare pipì Diciamo che buttiamo le cose in più Che uno la mattina Diciamo che Gli scappa No, invece a me mi scappa Di buttare le cose inutili Zucchero Ah, ci faccio una bella torta Prima o poi Vabbè Però non mi interessa A posto Iniziamo ragazzi ad esplorare Quindi a quanto ho capito Sto fortuna Non ne dà Non ne dà proprio fortuna Qui con Con L'oro Quindi raccogliamo L'oro Così com'è Col mio piccone Speciale Il mio bellissimo Piccone In diamante Che ormai Ce l'ho Da una vita Ormai da una vita Che ce l'ho Sto piccone E deve durare In eterno Oh Vediamo un po' Oh Bene Non ho mica paura Io Eh, no, no Venga Dà un'occhiata Ok Qui ci sta Dell'oro Ragà Magari siamo fortunati E troviamo qualcosa di bello Ok Allora Da questa parte Sento dei rumori Oh Chiedo scusa Disturbo Per caso Vi ho colto In un momento Particolarmente Brutto Ma si Mi spacca Tutti Mi spacca Cortesemente Non fatemi Venire strane idee In mente Allora Eh Eh che cavolo Oh ma cos'è Questa storia Va Eh mi serve Sono qui Io son venuto qui Da lontano Per il vostro Preziosissimo oro Cortesemente Se me lo fate raccogliere Disturbo È vostro A voi non vi serve A me si Mi quanto ce n'è Ragà Eh per questo Che vengo qua Il mesa È un'ottima fonte Di oro Peccato che non ho Ancora trovato Ok Niente di grave Solo un piccolo Coso verde Una specie di pod Pericoloso A proposito di pod Ora che ci penso Mi ha detto che Che aveva messo qualcosa Sotto casa Sotto casa È vero E non ci ho più pensato Ma poi devo dare Un'occhiata Oh Ma che cacchia Vuoi crepare Ma quanto è Grande sto posto Oddio Oddio Guarda che Te trovo Oh che bello Il mesa Meno male che c'è Il mio piccone Con fortuna È quasi Che Ehi So pieno di cacca Via 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 Madonna Quanti me ne sta dando Sto piccone Otto Magari c'è Qualche altro Diamantozzo Eh Purtroppo no Oh Mamma mia Oh Ma sta qua C'ha rotta le scatole Però Scusa Eh Mamma mia Che scocciatura Allora Raga Prima che qua Vado in confusione Più o meno Totale Mettiamo due torce Qua e là Allora Sento in giro Della lava Raccogliamo anche La redstone Perché di per sé Non ne ho Tanta Oh Wee 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 Cos'è qua Una bella Caverna Bella Sta caverna Aspetta un po' Che ci sta il solito Oro Visto che c'ho Qualche Blocco Qui con me Mi sa che Questa è La bistecca Della cena Diciamo A quest'ora Sarà già notte Fuori Eh Sotto c'è Della lava E io lì sopra Non ci voglio Cadere Speravo di vedere Qualche altro Diamante Devo dire Cioè Non so che farci Ma mi piacciono I diamanti Allora La bislazzoli Tornano utili Alle volte Quando bisogna Fa qualcosa Oh Ma ancora Non ho trovato Manco Un diamine Di carrello Pieno di tesori Niente di tutto Ciò Ancora In vista Aia Oh Oh Dovremo poi Devi crepare No Ma Do Ma Ci mancava poco Ma buttavo di sotto Non so manco Da che parte Me trovo Ah Sto tornando Indietro Vabbè Tanto non ho visto Niente di che Sì Sicuramente C'è tanto Però 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 Il tempo Comunque Non è poi Tantissimo A nostra disposizione Proviamo a guardare qua E più o meno Dove che siamo qua Che bello Devo stare attento Alle mie spalle Non vorrei che becco Qualche animale Cattivo Ecco Mi proteggo In questo modo Bene Diamant 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 Guarda quanto Ce n'è Olè Raga Olè 18 diamanti E chissà No Ho sbagliato E chissà Se ne troviamo Altri Da queste parti Oh Oh Sì 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 Qua vuol dire Che c'è qualcosa Di interessante Qui sopra Sicuramente Con me Ho una bella Ascia Ok No Lo sapevo Mo' mica Mi fanno andare su Tanto facilmente Perché vado a fuoco Ah Mi Mi fate un attimo Sal Eh vabbè Ora poi queste torce Pure Oh Agrippi Oh 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 Vabbè Pidiamo Le cose Più o meno Ovvie La targhetta Ne ho tante A casa di targhette Quindi Non so che farci Oh Oh Lì c'è quello Che cercavo Bene Allora Magari Svuotiamoci Un po' Dalle cose Più o meno Inutili E Dopodiché Ragà Prendiamo Le cose Utili Torce Redstone Binari Mela d'oro Pane No Vabbè Questo Questo Carbone Non mi interessa Questo lo togliamo Qua Sopra Oh C'è uno Spawn Ma che Spawn Da ragni Se Un dannato Spawn Di ragni E noi che abbiamo paura Dei ragni Oh Questi mi sembrano I ragnetti Quelli piccolini Devo dire Ok Togliamo Togliamo Lo spawn Naggia Quanto Sono pericolosi Sti così Piccoli Se sei meno Tra di loro Guarda Datemi Un attimo De tregua No E mori Ok Ce n'è ancora Morto Ovviamente Mo da questa parte Dubito che troviamo Qualcosa di interessante Che ci fate Tutti qua Tutti così Stipati Bene Ne è rimasto Ben poco Dei tuoi amici Ragazzi Sto posto È enorme Non finisce Mai Sto posto Non ha Fine Peccato Veramente Tanto Che si trova Pochissimo Le casse In giro Sono Abbastanza Poche Comunque Cioè Poche Sono Ok Ragazzi Penso proprio Che Iniziamo Magari A trovare Una via Di uscita Ho L'inventario Ormai Abbastanza Pieno E Quindi Vediamo Se riesco A scavarmi Un'uscita Verso L'esterno Ok Abbiamo trovato Una via Di uscita Diciamo Che è invasa Dall'acqua Ma va bene Lo stesso Speriamo Che non c'è Troppa Strada Da fare Dai Dai Acqua 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 Dove cacchio Che sono uscito Nel bel mezzo Del nulla Mangiamo Bussola Alla mano E torniamo A casa Allora Casa Dolce Casa E da quella Parte Senza Bussola Non L'avrei Mai Capito Finalmente Ragazzi Rivediamo Casa Eccola Lì E' stato Un duro Viaggio Siamo Diciamo Che è più o meno Mezzogiorno Andiamo Ragazzi Subito A mettere Il L'oro A cucinare Facciamo I lingotti Di oro Così Possiamo Poi Fare Tantissimi Possiamo Fare Poi Tantissimissimissimi Lingotti D'ore Tantissimi Binari Allora Oro 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 Vediamo Se per caso Abbiamo Ok Un po' Di carburante Per le nostre Fornaci Mi pare Che qui E' tutto A posto Vediamo Un po' Le nostre Fornaci Tra poco Si metteranno Al lavoro Eh E' già partito Il carrello Col carbone Tra non molto Partirà Il carrello Con L'oro Al suo interno Eccolo Lì E' partito Bene Le fornaci Si stanno Accendendo Tutte Iniziamo Quindi a Produrre Tantissimo Oro Tantissimi Lingotti D'oro Raga Tra non Molto L'oro Oh Ah già Che poddy Mi ha chiuso Qua sotto Me ne ero Dimenticato Di questo Ok Poddy Sempre I danni Fa Ole Ok Vediamo Vediamo un po' L'oro Se sta Arrivando Eccolo Qui Lingotti Di oro In arrivo Ragazzi Quindi Possiamo Poi fare Tantissimi Binari Alimentati E possiamo Quindi Poi Continuare La ferrovia Ok Quindi Raga Ci fermiamo Qui Per il momento Non abbiamo Altro Da fare Spero Tanto Che questo Gameplay Ragazzi Vi sia Piaciuto Come sempre Mi raccomando Commentate Iscrivetevi Lasciate un bel Mi piace Ci becchiamo Nel prossimo Gameplay Ciao Raga